È una giornata difficile, è normale che sia difficile, ma con lo spirito di Luca nella sua positività è quello che dobbiamo rendere questo giorno proprio non triste, un giorno triste, ma di continuazione proprio di rinascita, come è stato fatto, come è stato lo stesso messaggio per primo anniversario. Quindi lui continuerà a darci forza per ricordarlo alla maniera giusta. Già la decisione di tornare è proprio nel luogo della tragedia, perché qui proprio con Luca abbiamo creato un rapporto umano con bambine e donne in difficoltà. E ricordare Luca anche è ricordarlo di una maniera concreta, perché lui era veramente concreto. Stamattina l'ambasciatore Petrangeli, in collegamento con la Farnesina, è stato lanciato il bando delle borse di studio Luca Attanasio, in collaborazione con la Farnesina, l'Università Icampus, Vexavit e Anpit, per 12 nazioni, quindi il lancio è proprio stato dove nei suoi ultimi giorni come ambasciatore. Grazie. Grazie.